Il tema delle vaccinazioni è un argomento che divide l'opinione pubblica, un argomento di strettissima attualità. C'è chi è contrario temendone gli effetti collaterali, c'è chi invece invita a vaccinare i bambini per evitare il diffondersi di malattie che potrebbero rivelarsi anche estremamente pericolose. A Campobasso, iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'utilità e sui benefici del vaccino. Oggi è la settimana mondiale dei vaccini, noi siamo come Associazione Cultura e Solidarietà in 17 città d'Italia con dei medici a spiegare perché vaccinarsi. Noi siamo assolutamente favorevoli al vaccino, oggi con tutte queste sentenze anche i comuni possono imporre la vaccinazione obbligatoria alle scuole, lo può fare il Parlamento. Ci sono delle richieste in tal senso e noi siamo a favore. Il nostro slogan è vai a vaccinarti in modo sereno, vaccinarsi per non vaccinarsi più. Perché se oggi ti vaccini, domani non ci sarà più bisogno di vaccinarsi. Dottore, bisogna far vaccinare i bambini? La vaccinazione è uno dei principali strumenti di prevenzione per importanti patologie ed è una delle più grosse scoperte della medicina contemporanea e moderna. Ci ha permesso di debellare malattie che una volta erano delle vere e proprie piaghe che decimavano la popolazione, come il vaiolo per esempio. Ecco, lei cosa si sente di dire a quei genitori che sono perplessi, molti non portano i bambini a vaccinarsi, tanto quelli in tenere età. Poi c'è anche la vaccinazione contro il papillomavirus. Ecco, lei che cosa si sente di dire? Allora, il vaccino è un farmaco e quindi deve avere una giusta indicazione. Non è più giusto parlare dei vaccini per l'infanzia. Oramai il nuovo calendario vaccinale si chiama il calendario vaccinale per la vita, perché tutte le fasce d'età possono essere predette con i vaccini. Sappiamo gli anziani per l'influenza, adesso per le patologie invasive da pneumococco, per le meningiti. L'adolescente, il giovane adulto, sia femmina che maschio, per il papillomavirus. Lo chiamano il primo vaccino contro il cancro. In realtà diverse patologie tumorali sono dovute a virus, alcune forme di leucemia. Abbiamo già un altro vaccino per il cancro, che è l'epatite B. La differenza è che l'epatite B può dare il cancro del fegato, ma il cancro del fegato può essere dovuto anche a altre cause. Il cancro del collo e dell'utero è dovuto solo al papillomavirus, per cui vaccinarsi è molto importante. Ogni anno in Italia muoiono più di 1500 donne per colpa di questo cancro. Vaccinarsi quindi ci protegge. Gli effetti collaterali sono veramente molto scarsi. Certamente è importante la farmacovigilanza, cioè controllare quello che succede dopo che si fa un vaccino, come si fa la vigilanza dopo qualsiasi terapia.